Dall'indomabile spirito sportivo, lo Stelvio, il primo SUV di casa FCA, sarà la sorpresa di fine stagione per il miglior calciatore del Cassino Calcio. La squadra del Presidente Rossi a suon di vittorie sta per tagliare il traguardo chiamato Serie D, a spronare i calciatori non solo società, tecnico e tifosi, ma anche il gruppo Ecoliri, da sempre al fianco del Cassino Calcio. Ecco come. La possibilità di avere per un po' di giorni il miglior giocatore della squadra, la possibilità di avere per un po' di giorni lo Stelvio in prova, credo che sia un'opportunità in modo tale che i giocatori si possano impegnare ancora di più, fanno già tanto devo dire la verità, però si possono impegnare ancora di più e quindi avere lo Stelvio così come è accaduto la volta precedente che abbiamo dato a Giulia, questa volta il miglior giocatore della seconda parte del campionato avrà lo Stelvio per un po' di giorni in prova. Quindi lunga vita allo Stelvio e anche alle altre vetture che arriveranno dopo lo Stelvio. Al miglior calciatore della seconda parte di stagione, il gruppo Ecoliri offrirà l'opportunità di provare per due settimane il SUV più atteso ed ammirato del 2017. È una macchina molto sportiva, quindi carattere grintoso, quindi è una macchina adatta appunto per sportivi. Motorizzazioni 2.2, 210 cavalli gasolio, questo allestimento che vediamo alle nostre spalle è un allestimento executive, poi abbiamo il 2.0 benzina da 280 cavalli e uscirà un 2.2 da 180 cavalli. Stelvio dunque macchina da campioni, ma i calciatori del casino calcio sono campioni da Stelvio. Per quello che hanno dimostrato penso di sì, per il loro campionato è veramente una squadra ad alto livello. La fine stagione più brava avrà questa Stelvio per qualche settimana.